Io sono una ragazza, il trapattone è comodo. Ma il trapattone sta simbatico? No, un po', ce l'ha messo a tutta, mi ha detto, ma stavo andando tra le squadre. Ti ricordo il Tardelli, ma io non lo so. Cioè tu ti fai, ma che si sa fai? Guarda che la tua banditana, la bellina. Sono un camionio, sono un trapattone, lo fai spedendo, diciamo. Lì, sto facendo le cose, il Tardelli. Ma io... E il Prandelli come si comportava? No, 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 via, non serve, no. Non c'è uno schema di geografico. Vabbè, ma se gli mancano i giocatori? Non fa niente, questo è un po' di giocatori. Tu sta parlando molto, tu sta parlando molto, ma tu parlo bene. Sì, ti mai visto? Quello è un grande giocatore. Qualsiasi tipo di punizione, se chiudiri fuori dall'aria, lui sta sempre in cuore i giocatori. Ma di chi stiamo parlando? Quello è una sintomica, no? Va bene che sto parlando molto, mi dico. I giocatori, ma tu, tre, quattro, all'aria, tu, come ti fa la poluzio, è chiaro, devi mettere sempre dove il centro, la tua sentita, il calcio di rivoluzione. Ma il progetto la pratica chi è? Qualsiasi tipo di gioco, calcio d'angono, calcio di rivoluzione, va, va, devi andare sempre dove il discreto di rivoluzione. Allora, lo che...